Schumacher un po' in difficoltà in questa gara di esordio, tra virgolette, dopo il suo ritorno in Formula 1 a distanza di tre anni dall'ultima stagione in cui aveva perso il titolo mondiale nei confronti di Fernando Alonso. Dunque uno Schumacher un po' arrugginito come lui stesso si è definito ieri. Un minuto alla conclusione, poi daremo la linea al GR un minuto alla conclusione, poi daremo la linea al GR un minuto alla conclusione. Un minuto alla conclusione, poi daremo la linea al GR un minuto alla conclusione, poi daremo la linea al GR un minuto alla conclusione, poi daremo la linea al GR